Ed ecco a voi le Miracle Toons Julie e Jasmine Dalla nuova serie tv abbiamo le due bamboline Allora queste sono le tre protagoniste di questa nuova serie Miracle Toons Sono tre bambine che si trasformano Questa si chiama Jasmine Mentre questa si chiama Julie Allora le scatole sono molto belle Allora qui abbiamo gli accessori delle bamboline Allora lo scettro La cuffietta Poi questa non so penso dovrebbe essere tipo musicassetta E le scarpette Ah queste sono di Julie No queste sono di Emily Queste sono di Julie E queste di Jasmine Ognuno suo colore Jasmine celeste Julie rosa Ed Emily viola Accessori originali Vediamo dietro Dietro abbiamo il disegno delle tre protagoniste Eccole qua La bionda che è tutta vestita di viola La castana è vestita di rosa E la mora è vestita tutta celeste E queste sono proprio loro Eccole qua Queste sono Queste qua Della serie Invece queste sono disegnate a cartone animato Come so carine Molto carine Queste a cartone animato Come una vera Miracle Tunes Vestito e accessori originali per la bambola Giochi preziosi E anche qui Uguale Le due scatole sono identiche Che poi nei negozi si trovano anche i vestiti Per le bambine Si trova il cantatù E lo scettro Sarebbe lo scettro che hanno in mano anche le bamboline Eccole qui Adesso le tolgo dalla scatola Così le vediamo nei dettagli Ed eccole qui Le nostre bamboline Iniziamo con Julie Allora Julie Ha dei bellissimi codini Lunghi lunghi Castani Con le mesh rosa Ecco Gli occhi castani E ha due stelline sotto agli occhi Poi sopra L'occhietto Nell'angolo Abbiamo la nota musicale Sia a destra che a sinistra Poi porta la cuffietta Tipo microfono Col microfono Il vestitino Lei lo porta in rosa Questa Questa penso sia la musicassetta Lo scettro Il vestito è molto bello Dietro porta anche il fiocco Con le note musicali Anche il vestito Qui abbiamo le calze Le calze sono dipinte Ma la cosa particolare Che sul laterale Porta il disegno Del pianoforte Sia a destra Che a sinistra Tutto in rosa Ovviamente Con le scarpette Da ginnastica In rosa Bianco e rosa Come ho detto prima Ognuno ha il suo colore Il suo colore È quello rosa Anche l'ombretto è rosa Molto bella Carinissima E vediamo La sua amichetta Lei è un po' più scura di pelle E ha i capelli Ricci ricci neri Spiziosissima Anche lei ha la cuffia Con il microfono L'ombretto È celeste Anche lei Porta le note musicali Sia a destra Che a sinistra E sotto all'occhietto Ha la stellina In entrambe i lati Faccino molto molto carino E questo è il suo vestitino In celeste Perché il suo colore è celeste È differente da questo Perché lei Allora lei ha Il tulle Mentre lei porta i mutandoni Le culotte Anche lei ha le note musicali Sul vestito Il fiocco Anche lei porta Le calze Con il disegno del pianoforte Ovviamente in questo caso è celeste Sia a destra che a sinistra Scarpe da ginnastiche Bianche e celesti Molto bella Anche lei ha la musicassetta Bellissima Molto belli due vestiti Sia il suo Che quell'altro in rosa Sono bellissimi Anche il faccino Bellino Bellino Che capelli Ricci ricci Bellissime Tutte e due Ok Io vi saluto Un bacione Alla prossima Ciao 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 ciao